Patek Philippe 24, storia, eleganza e significato nell'orologeria femminile. Nel 1999, Patek Philippe lanciava un orologio che sarebbe diventato un'icona dell'orologeria femminile, il Patek Philippe 24. Questo orologio è molto più di un semplice accessorio, è un simbolo di eleganza, stile e potere dedicato alle donne moderne. Il 24 fu creato nel 1999, un momento in cui l'orologeria di lusso stava iniziando a riscoprire l'importanza di soddisfare il pubblico femminile. In un periodo in cui la produzione di orologi per donne era in gran parte una semplice versione ridotta dei modelli maschili, Patek Philippe ha deciso di fare la differenza. Il design di questo orologio è stato curato da Roberto Boglietti, un gioielliere con una visione innovativa. Fin dal suo lancio, il 24 è stato scelto per sottolineare la sua adattabilità, poiché è l'orologio perfetto da indossare in qualsiasi momento della giornata, dal giorno alla notte. Con un movimento al quarzo, è stato progettato per soddisfare i bisogni delle donne dinamiche e moderne. Nel 2018, Patek Philippe ha lanciato il 24 Automatic, un'evoluzione del modello originale. Questi orologi da donna presentano un movimento meccanico a carica automatica, che rappresenta un passo avanti in termini di orologeria. Le caratteristiche distintive includono una cassa rotonda con il calibro 324 SC, a carica automatica e una finestrella per la visualizzazione della data e dei secondi. Le versioni disponibili del 24 fori includono cinque opzioni, due in acciaio con diamanti sulla lunetta, due in oro rosa con diamanti sulla lunetta e una versione in oro rosa con diamanti sulla lunetta, sul bracciale e sulla corona. L'incastonatura di questi orologi segue uno stile chiamato dentelle, con due file di pietre preziose disposte a quinconce e diamanti di qualità Top Wesselt Pier. Le versioni in acciaio presentano quadranti blu solei o grigio solei sfumato, mentre il modello in oro rosa offre la scelta tra un quadrante bruno cioccolato solei sfumato o argente con una doppia satinatura verticale e orizzontale, ispirata ai tessuti di seta selvaggia Shangtun. Esaminando il 24 Automatic REF, 7300-1200R-011 in oro rosa o verde oliva REF, 7300-1200A-011, è evidente come i quadranti abbiano evoluto e superato i canoni stilistici del modello originale del 1999. Questo passaggio di design è significativo, poiché riflette un cambiamento nell'interpretazione dell'orologio come simbolo di potere e stile femminile. Il design originale di Roberto Boglietti con un bracciale di ispirazione Art Deco si adattava perfettamente agli anni 20. Oggi, il 24 non si limita più ad essere abbinato a sottili braccialetti tennis in diamanti, ma si presta a combinazioni con fili di zaffiri colorati o diamanti.